Su suoniamo il piano e bene Mery Quando sarai pronto io sarò troppo vecchio Avanti, spriti Sì, stai, 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 stai Sì, stai, 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 st to give that's how it's faithed to be today tomorrow forever you are the one for me E ora, ragazze, non credete che un marinaio sia il giudice ideale per il concorso del rossetto base tentatore? Dov'è un bel ragazzo? Oh, ecco, tu sei adatto. Noi chiedeggiamo giudice, tu sei da ora mister tentazione. Oh, sembra che il titolo sia timido, ma voi lo svezzerete, non è vero, ragazze? Dunque, come avete visto, è timido. E sapete come si chiama? Come ti chiamo? Me? Mi chiamo Melvin. Ora, prima che la gara cominci, dirò qualche parola sul nostro rossetto. Grazie.